Stando alle previsioni meteo, già nelle prossime ore, dalla domenica, la perturbazione Stormline scivolerà a lungo l'Adriatico con calo termico generale sull'Italia. Nonostante l'assenza di piogge significative che si protrae ormai da settimane, la situazione appare relativamente tranquilla. L'invaso di Guardia Alfiera, anche se ridotto nella capacità totale, continuerà anche nei prossimi giorni a garantire l'approvvigionamento idrico ai comuni del Basso Molise e per l'irrigazione dei campi, dicono i tecnici dell'azienda speciale Molise Acque, ma è comunque opportuno continuano a usare l'acqua in maniera razionale. L'ultima rilevazione indica il livello della diga dell'iscione a 112 metri, quello massimo è di 129 metri. Questa torrida estate, in particolare il periodo tra la metà di luglio e la prima decade di agosto, ha determinato una diminuzione della portata del fiume Biferno che rifornisce l'invaso e si notano delle zone aride solo fino a qualche mese fa sommerse dall'acqua.